E adesso partono, è vero. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie a tutti voi. Partiti. E in vantaggio, voilà la profusione davanti a Battier, Olympi Fai, Bridge e Ghostly, Luna in Bosa, Ponta Tire, Elettronica, San Mambo, Fieri Spring, White Flower, Eisenheim, Remo Sweet e Indos Bank. All'inizio della curva, in vantaggio, Battier davanti a Luna in Bosa, Ponta Tire, voilà la profusione, Olympic Fire, Bridge e Ghostly, San Mambo, Fieri Spring, White Flower, poco prima dell'ingresso, indirittura, in vantaggio, Battier davanti a Luna in Bosa, Ponta Tire, E voilà la profusione, i cavalli entrano in dirittura, con Battier in vantaggio lungo la corda, davanti a Luna in Bosa, voilà la profusione, Capinera, Capinera, centropista, Ponta Tire, per linee interne, insieme a White Flower, all'esterno, San Mambo, Capinera, Demuela, sempre in leggero vantaggio, Battier, attaccata all'esterno, da voilà la profusione, tra i due Luna in Bosa e White Flower, seguono Ponta Tire, elettronica, Bridge e Ghostly, passa a White Flower, davanti a Ponta Tire, voilà la profusione, Luna in Bosa e Olympic Fire. Bene, allora, ancora un arrivo serratissimo, e si chiude in bellezza, ma noi dobbiamo chiudere con dei numeri, i numeri dei primi cinque, allora, Piero, primo, sei, microfono Piero, microfono Piero, microfono Piero, se no non puoi parlare, ti devi sempre tenere collegato. Montata da questo ragazzo, da Di Napoli, una corsa stupenda, sei, otto, sei, otto, sette, sette, poi cinque, Luna in Bosa, cinque, e poi chi è quello in mezzo? Olympic Fire. E Olympic Fire, che è il numero dodici, questa allora, Olympic Fire o elettronica, o elettronica, però guardate come ha montato sto ragazzo, per dire in terni, abbiamo capito che Piero ha preso, no, 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 guarda, perché questo è un ragazzo, comunque pagherebbe 9,43, 9,43, per me è un ragazzo che è sottovalutato, è molto bravo, però monta veramente bene. E allora ci piace chiudere l'ultimo collegamento della stagione, proprio salutando in Christian Di Napoli, un potenziale protagonista della prossima allora stagione autunnale ad alto livello, ringraziamo come detto tutti, e restituiamo, eccoci qua. Non credo sia elettronica, è il cavallo all'interno di elettronica. No, è Olympic Fire. Olympic Fire. Olympic Fire. Uncorrente. chool Absolutely. Partire. Buroc forty-vita.